La propria di arte emigrante non è il fare qualcosa per qualcuno ma è il fare qualcosa con qualcuno Io appunto ho conosciuto arte emigrante un anno fa e quando mi chiedono cosa rappresenta per te arte emigrante sinceramente faccio tanta fatica a trovare le parole appropriate perché secondo me non esistono io dico sempre che se potessimo comunicare le nostre emozioni sarebbe molto più facile e molto più semplice Per me arte emigrante è stato comunque un percorso, un percorso in cui sono cresciuta con gli altri in cui è un'atmosfera in cui non c'è chi da, non c'è chi riceve ma tutti diamo e tutti riceviamo Ed è secondo me un'occasione importantissima e bellissima per capire che in ognuno di noi c'è qualche risorsa che possiamo condividere e soprattutto ognuno di noi può donare dell'affetto tramite anche i piccoli gesti